E ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Luca e oggi siamo qui su... sempre su Assemblée Line. Allora, mi sono migrata un po', ho sbloccato molte altre cose e mi sono portato avanti. Allora, quel marketing genio che vedevate prima l'ho tolto e ho fatto tipo queste F. E praticamente questi due, che sono di copper e questo qua di oro, formano un circuito, come ve l'ho detto l'altra volta, e questo circuito poi va venduto, che si vende a 300. E poi l'ho copiato anche di qua. Oggi volevo sbloccare un altro, che sarebbe l'Engine, che però mi serve, come posso dire, questo, il cutter. Ehm, tanto che aspettare, diciamo che mi guardo un video, così almeno vado avanti, quindi noi ci picchiamo fra poco. Ok, ho guardato il video, sono a 300, 3800, posso sbloccarlo? Ok, ho sbloccato l'Engine. Allora, dato che ho 23.000, direi di rompere questo qua, ok, tutto, e di costruire il nostro marketing genio. Facciamo il cutter, così, e lo mettiamo qua. Poi facciamo uno e uno, no, scusate, uno e uno. Che portano, no, no, quel seller andrà qua. Poi ci vorrà un roller qua. E il marketing e il crafter qua. Ok, abbiamo creato il nostro Engine. Adesso devo girare questo. Ok, 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 va bene, vediamo se ho fatto giusto. Ok, ok, e va bene. Adesso se noi mettiamo... Aspetta che... Aspettate che Iron... Ok. Iron... E gold era? Sì, e gold. Gold. Adesso noi qua mettiamo i nostri coli. Adesso qua ci mettiamo il nostro Engine. Adesso guardiamo se tutto funziona. Esce l'Engine? Sì, esce. Ok. E abbiamo creato il nostro piccolo marketing genio per l'Engine. E ho mirato anche la nostra isola. Adesso è tutta questa. Prima avevamo tanto a un pezzo così. Adesso ho fatto questi sei quadratini. Adesso il nostro compito sarà fare... Fare... Let's Place. Che vediamo... Copper Wire, Copper Diamond. Oddio, servono un sacco di cose per farlo. Vabbè. Eh, sì, svocherà a 360 come sempre. Anche il grill, eh, però... Sì. Vabbè. Più avanti andremo più i macchinari diventeranno difficili. Tanto che guadagniamo un po' poco. Scusate, c'è un raffreddore. Allora... Direi di fare un piccolo... Coso così. Ok. Che poi andremo a distruggere, è giusto provvisorio. Pam pam. Questo qua. Tiriamolo. Ok. E poi mettiamo un roller qua. Ok. Abbiamo creato il nostro piccolo... Diciamo... Il nostro piccolo... Il nostro piccolo. Tipo, facciamo così. Così almeno guadagniamo un pochettino di più. E possiamo avere più cose veloci. Però dato che consumiamo un po'... Io li farò così. Ok. Adesso va molto meglio. Ok. Allora... Sì, diciamo che fa un pochettino schifo. La nostra isoletta ha detto che volevo mettere poi in circuito qua. In fondo, proprio qua. E farlo arrivare qua. E farci fare tutta questa strada. Creare una strada. Così almeno poi li collegheremo ad altri circuiti. E avremo soltanto uno di questi. Allora. E così almeno sprechiamo anche di meno. Sì, adesso guadagniamo abbastanza. Beh, ho messo anche upgradeato. Adesso spegniamo uno. Ogni volta che esce uno. Ogni tre secondi sprechiamo uno. Quindi sprechiamo otto precisi. Poi sprechiamo cinque... Dieci... Tredici... Quattordici... Spegniamo quattordici. No, quattordici... Ventidue ogni volta che fa qualcosa. Quindi, dai. Buono, accettabile. Qua dodicimila. Allora, aspettate che... Ok, ragazzi. Ho guardato il video. Mi ha dato dodicimila. Infatti adesso quarantanove mia. Allora. Il mio prossimo passo sarà... Aspettare i nove... Novantamila. Perché poi i robotic arm... Non so cosa serve. Però, infatti, adesso andremo a vedere. Allora... Robotic arm... Ok. Lancia le pozioni. Cioè, potremmo fabbricare anche le pozioni. Da quanto ne ho capito, eh. Ragazzi. Poi guarderò il tutorial. Cerca anche per me un nuovo gioco. E... Guardiamo un milione, no? Non ce li ho. Allora, musica off. Ok. Qua metti in pa... 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 Infatti adesso non farà più niente. Sì, infatti, non fa più niente. Sì, sì, non fa più niente. Oddio, cosa ho fatto. Va bene. Ok. Abbiamo... Sto abbazzando un attimo la nostra... Cosa. Allora, se vediamo... Se esco... 25.000... In quanto costano? Sì. Non ce la farò mai. Due ne possiamo slocare. Oh, vediamo. 7.500. Vabbè. Poi, ragazzi, guardo la video anche quando... Non... Non registro. Ok. Allora, questa qua però è la nostra situazione. Guadagniamo 108. Dai, non è male. Allora, guardiamo un po'. Non capisco però cosa servono queste freccettine, questi numeri. Non capisco. Forse aspetta. No, qua non ho sbagliato. Ok. 20.000. Magari qua ci aiuto. Ok. Ho fatto upgrade assolutamente a caso. Non lo so neanche io. Andiamo, non posso cambiare manco il numero. Qua no, guadagno è sempre 5. Magari posso mettermi altri di questi. No. Massimo è 8. Allora. Vabbè, allora, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi piace lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e niente. Bye, bye. Bye.